Un uomo arriva da Milton Erikson e gli dice che non riesce a dormire, soffre di insonnia. Erikson ci parla, gli chiede un po' di informazione e poi gli chiede ma tu cos'è che odi, cos'è che proprio non ti piace fare? E l'uomo, come un po' tutti gli uomini, gli dice le faccende di casa e poi in particolare odio passare la cera sul parquet. Erikson gli risponde bene, allora da qui a quando ci rivediamo devi fare questa cosa, o ti addormenti in 15 minuti o devi passare la cera sul parquet di tutta casa. L'insonnia dell'uomo sparisce. Ora, chi non conosce le tecniche paradossali, in particolare l'ordali, ha questa cosa sembra strana o addirittura bizzarra o inefficace. Però non è così, non è così, considerate che sull'argomento ci ha scritto un intero libro J. Halley che è stato uno dei più grandi esperti di terapia breve e terapia sistemico familiare, massimo esponente della scuola di Palo Alto, grande allievo di Milton Erikson, Gregory Bateson, Salvatore Minushin, insomma, un po' di credito gli va dato. Ma come funziona questo tipo di intervento? Come funziona l'ordalia? Innanzitutto il nome appunto è questo, Ordalia, che anticamente disegnava quelle prove a cui le persone si dovevano sottoporre e il cui successo o fallimento avrebbe decretato il giudizio di Dio, positivo o negativo, nei confronti della persona stessa. Pocque noi psicologi siamo incredibili, ma ti pare che dobbiamo dare il nome di una cosa così terribile a una classe di interventi? Cioè deve stare a dire, caro paziente, per superare il tuo problema ti devi sottoporre al giudizio di Dio. Comunque, comunque, come funziona? Funziona che la logica da seguire è quella per la quale tu chiedi al paziente di fare un compito, che può essere gravoso, faticoso, più del sintomo, al punto che la persona, piuttosto che metterlo in atto, cede il sintomo stesso. Per esempio, nello scorso video raccontavo questo caso di Michael Hoyt, di un padre di famiglia che non riusciva a lasciare l'amante e che fu mandato a guardare tutte le domeniche i padri di famiglia divorziati, infelici, in non fast food, piuttosto che continuare a fare questa cosa ebbe un'esperienza emozionale correttiva, diremmo in un altro linguaggio, con un altro vocabolario, e lasciare l'amante. Un altro suo caso, forse più esemplificativo, molto carino, quello di due partner, una coppia, che litigavano costantemente, che erano anche molto attivi politicamente, a cui Hoyt chiese di fare una cosa particolare. Ogni settimana avrebbero dovuto versare 40 dollari a favore dell'avversario politico, cioè del politico che loro odiavano più di ogni altra cosa, oppure li avrebbero dovuti spendere per fare qualcosa di romantico insieme. Ovviamente in questo modo costruirono qualcosa che gli fece lasciare le litigate e fece in modo che iniziavano a ricostruire il rapporto di coppia. E invece come la costruiamo un'ordalia? Sempre Ale ci descrive 6 passi. Punto 1, devi farti definire chiaramente il problema, questo è fondamentale perché poi dovrai andare a costruire l'ordalia su quello. Punto 2, devi impegnare la persona a seguire la prescrizione. Questo lo puoi fare in due modi, in un modo diretto o in un modo indiretto. Per esempio Hoyt, nell'esempio della coppia di prima, prima di dargli la prescrizione, la persona gli disse ripetutamente, potrei aiutarvi però non so se voi sarete in grado di seguirmi, non so se è qualcosa che riuscirete a fare, non so se veramente volete cambiare. Il risultato fu ovviamente che le persone arrivano alla fine, prima della prescrizione, a dire ma ti prego aiutaci, sì lo faremo, faremo tutto quello che vuoi, salvaci. Punto 3, crei l'ordalia, che deve essere ovviamente qualcosa di più sconveniente o faticoso rispetto al sintomo o al problema stesso. Ovviamente, cari psicologi, non c'è bisogno che vi dica che non deve essere nulla di immorale, antieconomico, non etico, eccetera, giusto? Punto 4, impartisci la prescrizione spiegando nell'esatto funzionamento. Cosa deve essere fatto, quando, chi lo deve fare, dove, per quanto tempo, eccetera, eccetera, eccetera. Una cosa carina è che a lei dice che a volte va data una spiegazione logica di come funziona l'ordalia, di qual è il meccanismo sottostante, invece altre volte non va data, in particolare con le persone particolarmente logiche, analitiche, razionali, perché si metterebbero lì a cercare delle contro-argomentazioni o delle spiegazioni alternative e finirebbero per non seguirti. Punto 5, nelle sedute successive continui a mantenere l'ordalia fino a quando il sintomo non sparisce del tutto, o il problema non è completamente risolto. Qui potresti anche decidere di aumentare il tiro di volta in volta. Paradossalmente, meglio vanno le cose, più rendi difficile e faticoso il compito da eseguire, però non è un passaggio obbligatorio. E il sesto e ultimo punto è quello in cui sparito il sintomo aiuti la persona a riorganizzare la propria vita. In realtà a volte questo non è necessario, altre volte invece lo devi fare quando finisce il sintomo, quando sei liberato, altre volte lo devi fare durante, altre volte lo devi fare fin dall'inizio della prescrizione dell'ordalia, però ci sono casi e casi. Gli esempi di ordali nella terapia breve e nella letteratura sono un'infinità. Per esempio io mi ricordo quello di un prete che voleva farsi passare delle forti eccitazioni sessuali a cui fu chiesto di fare ripetute docce calde durante il giorno, più, più, più e più volte. A un uomo che voleva essere più produttivo ma che passava ore e ore e ore sul letto fu detto che o si alzava entro una certa ora o si sarebbe dovuto tagliare i baffi a cui teneva tanto. E a un diciassettenne che soffria di enuresi e bagnava il letto tutte le sere fu detto che ogni qual volta l'avesse bagnato avrebbe dovuto fare una lunga passeggiata notturna. Penso che molti si chiedano se effettivamente può bastare qualcosa di simile per una terapia e in effetti sì, può bastare. Nelle terapie brevi non si fa mai un'interpretazione del sintomo di quello che c'è dietro e spesso basta proprio cambiare il comportamento problematico, poi dopo eventualmente si può andare a fare qualcosa di più, a creare qualcosa di più se necessario. Per esempio alcuni dopo possono anche chiedere di fare un lavoro più profondo, però la maggior parte delle volte non serve. Io quando lavoro proprio con l'insonnia spesso l'intervento che utilizzo è quello di chiedere di fare qualcosa di più faticoso del dormire e quando poi si è risolto il problema non mi è mai capitato che qualcuno mi avesse chiesto di adesso iniziamo a fare un lavoro più profondo, andiamo nell'inconscio, robe di questo genere. Lord Dahlia è affascinante, soprattutto utile, però va studiata bene. Poi questo secondo me è il segreto di Pulcinella, se vuoi fare bene una cosa devi studiare tanto quella cosa. Quando studi Lord Dahlia spesso c'è l'idea di un effetto alla wow fighissimo, però in realtà quello wow fighissimo è lo studio accurato dei processi di cambiamento, non il colpo di genio isolato di un folle. Quindi la morale è semplice, se vuoi ottenere dei risultati eccezionali ti devi sottoporre a un duro lavoro. Progetto